Ciao a tutti, bentornati come la prima volta, ecco l'ospitone qua sotto, Ara Shommati. Ciao ragazzi. Allora, eravamo su Skype, stavamo parlando di Urain, abbiamo deciso di farci un video sopra, tanto per cazzeggiare un po', anche perché questo team l'abbiamo visto giocare a Paolino, Paolino Polciua, quindi perché no, perché non riparglielo modificandolo magari, rendendolo un team sano di mente, e niente, è un bel full reign. È brillante questo team, tra poco lo vedrete. Anche perché ultimamente ci stiamo chiedendo, Spazia e Arash, perché tutti giocano full reign, perché è così forte, perché se nel 2015 non veniva così usato, quest'anno è così inflazionato. Non è neanche così forte, è più perché la gente lo usa. Sì esatto, perché questa moda è solo questa. Forse più che altro perché si usava in BS Doubles, e lì per qualche motivo era forte. Vero. Però dopo un anno di metagame, vabbè che questo metagame è simile a quello, però... quello che penso io è che con un metagame così vario le persone non sanno a che strategia affidarsi e che vadano su reign, perché è quella un pochino più a tutto tondo, anche se puoi counterarla, è facile. Un po', sì, un po' perché l'anno scorso reign si usava, nonostante non ci fossero abusers, cioè la gente era costretta a usare Golduck. Golduck non è il peggio che ci sia, cioè fa comunque delle cose, però nel senso non è neanche il meglio. Esatto. Per il per è fortissimo. Adesso c'ha gli abuser, che sono Swampert, Ludicolo, un altro che vedremo stasera, Kingdra, insomma, adesso magari reign ha senso per quel motivo lì, effettivamente adesso è molto più forte che il primo. Forse sì, perché c'è Pelipper che ti dà una coverage in più sugli Among Us. Sì, ha la staff volante, e Thales, e Tailwind, Pelipper fa un sacco di cose in più rispetto a Polytod. Quindi in questa reign mettiamo Pelipper? Ehm, non lo so, dipende da quanto vogliamo rippare a Paolino. Perché la difficoltà di questo team è come ammazzare Pelipper. Che poi non ricordo neanche lui cosa usasse. Va bene, ma non è quella cosa importante. Ora, noi abbiamo già una Z utilizzata nella sdota del nostro Pokémon speciale. Sì. Non possiamo mettere il Fightium Z a Polyloid. Ci stava, ma non possiamo. Cazzo. Quindi io direi di mettere Pelipper per la Tailwind, per l'Hurrican, per gli Among Us. Giocarci l'Udicolo classico, Swampert classico. Cosa è che ci serve qualcosa per ferro? Non so, se Iden Power, Fuoco... Eh, ma i Ray non li fa niente. O Nature Madness, per portarlo in Rage di qualsiasi cosa, su Tabukoko. Sì, ma che cosa? Portarlo in Rage di che cosa? Già. Come faceva Paolino? Oh, giocava a Berish. Sì, ma anche con Berish è un casino. Esatto. C'è specie nel Mirror, perché dovresti lasciarlo per ultimo e devi avere il vantaggio numerico. Con delle atta ti filizzano, tipo. Non è proprio il massimo. E il Pingian più Z non li fa molto? No, in realtà penso allo Shotty anche, se è quello CB in Rain. Sì, potrebbe non essere male, però ci vuole qualcos'altro. Ci possiamo mettere, tipo, uno Specs Hurricane di Tornadus. Tornadus non è a male in questi team. Però Specs? Cioè, puoi fare Rain Dance. No. No, che la star del team la portiamo contro i Rain che hanno Ferrothorn. Cosa è che in Rain batte Ferrothorn? Io non ho ancora testato diversi team, finora. Non ho ancora avuto il piacere di giocare a Rain. Quindi, non lo so bene. Allora, in Rain cosa batte Ferrothorn? In Rain di solito c'è Firefang, ma Wild... Cartana? Cioè, vabbè, che Cartana proprio batte Ferrothorn? No. Eh, appunto. Però... Niente, direi che l'unica maniera per battere Rain... Cioè, per battere Ferrothorn con Rain e fai un Z. Eh, ma la Z ci serve. Ci serve in quel matchup la Z. Non possiamo usare un altro. Come minchia si batte? Senti, ma puoi iscrivere a Pochua. Se no, è possibile. Ah, e... Se smitovada da Focus Blast. Sì, ma... No. A parte che non c'è lo slot. Dele, abbiamo un Air Power. Ma tipo... Un Fire... Cioè, una mossa a fuoco. Su qualcosa. Perché no? Ok. Cosa? Oh. Tipo... High Dragon. Ah, ok. Ci possiamo mettere un bel High Dragon. Sì, High Dragon ci sta bene anche perché poi la star del team... batte Tapu Koko. È vero. Dai, ormai l'avete capito. La star del team è Sismitovada Poisonium Z. Nessuno. Ci uscite Tapu Koko, Ludicolo. Quanti di voi l'avrebbero detto, ragazzi? Io non l'avrei detto. Nessuno l'avrebbe mai detto, nessun universo. Comunque. Eh, ok. Allora chi leviamo per... Per mettere i Dragon? Ludicolo? Swampert? Non lo so. Boh, speri, capitolo. Allora. Allora, i periodi nostri sei sono... Peliper, Ludicolo, Felperon, Sismitovada, Coco e Swampert. Va bene. Però se lo diamo Swampert siamo senza Mega, no? Dai. Togliamo Ludicolo? Ma sì. Tanto. Sì, tanto nessuno lo vuole. Sì, sì. Hai Dragon. Come lo facciamo? Sash, Tailwind, Lapkinium. Orb. Mi piace. Tanto Tapu Koko muore. Poi, Flamethrower, Dark Pulse e Protect. Ehm, metti il Fire Blast. Ok. Spera, Fire Blast Shot and Rain. No, ok, no. Non Shot and Rain, Fire Blast. Ci vuole qualcos'altro. Su, Galassi. Sei tu l'esperto di questo metagame. Tira fuori qualcosa dal cilindro. Allora. Ci vuole una Stub. Mettiamoci Blast Cephalon. Lui lo shotta di sicuro. Amore. Garantito. Vabbè, ma chi se ne ha? Cioè, è forte? Secondo me. Poi ci può stare Rain. Lo mettiamo Scarf. Scarf shorterà? Con Manpower. No, anche Mind Blown Shot a Scarf. Ho appena visto. In Rain. Ma sì, Mind Blown basta per tutto. Mind Blown, Shadow Ball, altra coverage tipo Flamethrower. HPI, HPI. Scarf HPI mi sembra giusto. Mind Blown. Hidden Power Ice. Shadow Ball e Flamethrower? Sì, sì. Bello, mi piace. Ok. 4 HP, far ridere, mettergli. Ma sì, Scarf Blast Cephalon. Fai 252, 252. Che andiamo all'avventura. Ok. Perfetto. Siamo pronti. Here we go. Ok. O quello Charizard. Potrebbe essere un problema, però se vince il suo weather, noi con Blast Cephalon ammazziamo tutto in due corpi. Mi? No, seriamente. Sì, ma poi anche il fake out non ci ferma. No, è vero, lui non può mettere il sole. No, veramente. Sì, io direi di ridare Blast Cephalon. Ok. Magari Cocco. Ok. Dietro mettiamo... Pelipper. Qua Sismico di sicuro non si porta. Ferrotorn? Ferrotorn non sembra male. Oltre a Zapdos, Heatwave. E Charizard. Sì, sì, però Charizard in teoria lo dovremmo battere. Ok. Sperto. Pelipper sì, io lo metterei di sicuro. Poi Rose One per Ferrotorn. Che si fa? Si lancia la moneta. Non so, Ampert. Dai. Ok. Questa l'hai dato con Charizard. Eh già, lo fanno tutti. Deve... Ah, è Scarflando. Perché ha usato Intimidate e poi si è attivato il nostro campo. Geniale. Secondo te con Mindblown muore? No, morirà con i Dead Power Eyes. Perché... Adesso faccio il calcolo. Potremmo fare i Dead Power Eyes. Sì, muore per forza. Ma potremmo anche fare Mindblown. È vero. Aspetta, fammi vedere. No, ok, Mindblown non shotta. Fai HP Eyes. Ok, pronti. E T-Bolt perché sì. Ok, Mindblown così avrebbe shottato. Ma anche così. Deve fixare la vita di Blastephalon in modo che regga due Mindblown. Ah, già giusto. Cioè, magari lo hai già controllo. Sono a... Dovrebbe, in teoria dovrebbe. Sono a 129. Sai che secondo me HP Eyes magari shotta Cartana? È probabile. Poi Coco proteggerei. Sì, esatto. HP Eyes su Cartana. Ma buono. Madonna. No, ormai il Slalom non serve più, è troppo tardi. Che belva. Blastephalon è un gran po' comunque. Io non me l'aspettavo. Cosa? Che Blastephalon fosse buono in Rain. E invece? No, ci sta bene. Ah, e ti giocano Charizard Contro lo scoppi con TapuCocco. Bracefano. Ok. Contessa, zia. E chi è? Allora, questo qua ha la Sand, la Tailwind con Suicun. C'è Bullu. E comunque, Sismithod ci sta. Sperando che Coso Bullu non sia Scarf. Comunque, le diamo Sismithod. Magari per dietro. Oppure Cocco, che ne dici qui. Esatto, Cocco mi piace. Ma anche Ferrothorn non è male. Ferrothorn è morto Volcarona, ci fa vincere. Sì, e Scrafti. Cioè, boh. Sì, va bene, Scrafti ci fa Dream Punch, gli facciamo Power Whip e scoppia. Sismithod, Plipper si portano, secondo me, Plipper dietro. E niente, Cocco in Leading e Ferrothorn dietro. Va bene. Anche se sarebbe figo partire con Blacefano e fare Mindblown. Sì, esatto. Volevo portare Blacefano, il Blaccio. In Leading? No, no, no. Dietro? Facciamo le persone serie. Blaccio non si porta. Rimaniamo sul piano A. Ok. Todd, Cocco, Plipper? E Ferrothorn. Facciamo i seri. Ah, scrivo a questo, di ciao ai miei fan. Ah, al canale. No, ma in serio. Oh, oh. Questo sicuramente è tirannica dietro. Dipende su chi farà il fake out. Eh, lui non è messo bene. Rischia. No, allora, lui il fake out lo fa e noi ce ne infischiamo. Sì, potremmo fare il Muddy Water, Muddy Waterone. E Vought Switch? Sì. Perché così lo portiamo in range. Ho anche Dazzling. Dazzling, Muddy Waterone. Mh, ok. Vedi? Cioè, no, vedi niente. Muddy Waterone shorterà a Scratti a V. No, infatti non è shot. Oh, tutti starle. Bastardo. Dunque. Ok, Sismitoide è più veloce di Bulu. Perché si è... Si è preso prima da Grassy Terrain. Allora gli facciamo una sorpresina e facciamo Vought Switch e Scratti, direi. Eh, gli facciamo la Z o Mori? Pari anche. Dipende. No, vabbè, facciamo la Z, non rischiamo. E a Scratti ti Vought, non Vought Switch. Qui se... A Tyrannitar dietro, forse. Meglio tenerci, non mandare Pelipper. Ok. Ora c'è un buttato a Tyrannitar sul Poisonium Z, perché lui lo sa. Forza, Raymond. Ok. No. Che... Ma perché? È proprio uno strozzo. Ok. Vabbè, c'è pur sempre Sludge Bomb. Sperando che Volcarona non abbia Giga Drain. Di solito ce l'hanno. Sì, facciamo che non rischiamo. Mandiamo Pelipper su Sismitoide e facciamo tipo Vought Switch. Secondo me è sto punito. No. Bull lo... O lo toglie o fa Giga Drain. Però ci può stare adesso a fare Vought Switch. Cioè, mandare Pelipper in generale. Ok. È un sbagliatissimo. Ma cos'è? Va bene. Va bene. La zia... La zia ne sa. Cioè, il grassi Seed. È un genio. Sì. Infatti, può avere senso. Non è così sbagliata come cosa. Comunque, direi che si manda Sismitoide. E questa è persa. Vedi? Non ce l'ha... No, no. Questo qua non ce l'ha... Non ce l'ha Giga Drain. Ce l'ha, ce l'ha. Ha fatto qui Verdance. Potevamo spaccarlo questo turno. No, eravamo snarlati. No, fidati. Ma se ti volgo allora... Se proprio vuoi andare sicuro... E vabbè, non ti fidi. Allora io farei Tailwind. Tailwind. Sperando che lui non faccia un altro Kieberdance. Però sarebbe proprio da... Cioè, sarebbe pazza per Kieberdance ora. Tailwind? O Tailwind, predictando che lui non faccia Kieberdance. Oppure... Attaccare con Muddy Water. Allora. No, vabbè, non rischiamo. Io la butto lì. Gli si fa Brine con Periper. Che se ci fa Giga Drain, noi facciamo Protect con Seismitoid. Però è più uno di difesa speciale. Brine non so se è shot. Io farei Tailwind. Io farei Tailwind. Tailwind e o Protect. Probabilmente Protect. Ok, proviamo. Ha fatto Protect anche lui. Ok, ci è andata bene. Minch. Questo è un matto. T-Nanitar non è Mega, se non altro. Possiamo fare Muddy e Brine. Se no... Se no possiamo addirittura fare Earth Power su Volcarone e Brine. Per assicurarci la kill. Perché tanto puoi fare retorno di shot agli altri. È vero. Quindi... Perché se no Muddy Water gli attiva il baccone e con Brine non gli facciamo niente. Lui giustamente ha switchato. Bene. Perché Scratti era uno dei problemi. Far offslide. Anche questo ci va bene. Bene. Non siamo messi male. Abbiamo adesso Cocco. Lui Volcarona senza boost in range di Muddy Water. Bullug muore da Sludge Bomb. Famo da Zengu... Volt Switch, eh? È rischiosa la situazione. La situa. Sì, io direi sempre Sludge Bomb su Hulu. Volt Switch. Volt Switch su T-Nanitar magari. È abbastanza safe. Se ne fai attenzione a quando finisce la Tailwind. Che poi lui c'ha Tiranniterapia 1 e Volcarona. Però Cocco comunque dovrebbe auspidare. Non ha protetto Bull. Che adesso muore. Che bestia Sismethod. Che animale. Che cavallo. Va bene. Abbiamo ancora un turno di Tailwind. Lui ora dovrebbe fare doppia protect. Adesso noi possiamo giocare safe. Possiamo fare doppio target su Volcarona. Ok. Lui ne può scettare solo uno. Ma lui probabilmente farà doppia protect. Sì, va bene. Però stessa mossa adesso e dopo. Lui ce la fa quello flincia. Ok. Faccio... Switchar non ci conviene. Faccio Jiro Ball? Eh... Sì. Beh, sì. E? Matti Water. Ok. Scanando muoia di Sand. Ah, che matto. No. Ah, però va bene. Va bene uguale perché Cocco è più veloce di Tiranniter dopo il Dragon. Vero. Cocco ci shotta Volcarona. Sper, lui cosa può fare? Io direi. Niente. T-Ball to Jiro Ball. No, ok. Sì, lui può fare al massimo doppia protect, però non vale la pena. Cioè, rischiare. Facciamo T-Ball to Jiro Ball. Good game. Bravo. Pam. E niente. È molto bello questo team, devo dire. Sì, Blast Cephalon è segnalo. Avere Blast Cephalon in Reign mi fa sentire due palle quadrate così. È troppo bello. È l'idea, è l'idea. Cioè... Bo, non lo so, io sono ancora un po' all'oscuro del perché la gente giochi full Reign, come faccia poi nel Mirror. Blast Cephalon non è male. Vero. Oddio. Ci stiamo dimenticando di qualche altro matchup, c'è margine di miglioramento, di sicuro. Certo, ovviamente noi ora stiamo bruzzando, come si suol dire. Però ora, mettendosi a tavolino, uno può studiarsi matchup con ogni singolo team. Seismitoid vince praticamente contro gli altri Reign da solo. Blast Cephalon scoppia ai Ferrotorn, scoppia ai Charizard team. Infatti forse un'idea potrebbe essere non togliere Ferrotorn dal team, mettendoci qualcos'altro. Che appunto il ruolo di Seismitoid è quello di battere Reign. E lo fa discretamente. Vero. Quindi, Ferrotorn sicuramente non è male con Reign. Come avete visto prima, abbiamo faticato molto a trovare un modo di batterlo. Però, se ci fosse bisogno di altro, si potrebbe, ecco, rimpiazzare quello slot volendo. Vero. Effettivamente, c'è da pensarci. Bene, Arshi, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei, dottore. E niente, alla prossima. Tra parentesi. Quindi, quest'uomo è ancora primo in classifica per Championship Points in Europa. Tanto per... Ma hanno giocamenti da secoli. Cioè, sicuramente, sicuramente qualche nerd di quelli in top 4. Cioè, qualcuno che ha provato a superarti. Esatto. Ma ci è riuscito per circa un'ora. Perché, spieghiamo la situazione. Mentre ero a Torino, dieci giorni fa, allo special, Yuri ha fatto top cut, Arash purtroppo non ci è riuscito. E cosa è successo? C'era Yuri che, essendo secondo il CP nella classifica europea, si stava già facendo i calcoli. No, allora, lui voleva finire l'anno come primo in classifica in Europa. Esatto. L'ha proprio detto. Ok. Capite la situazione. Cioè, lui voleva proprio superarmi. L'ha dichiarato, cioè. Quale affronto. E la cosa bella è che ci stava riuscendo. E lui era, esatto, era convinto di farcela. Esatto. Ha fatto top 4, se non sbaglio. Lui era convinto che con una top 4 mi avrebbe superato. E effettivamente ti avrebbe superato. Io ho fatto top 32 a regionale. Lui, facendo top 4, mi avrebbe superato di due punti. Ok. Però, c'è una cosa che lui non aveva considerato. Ovvero? Io sono andato a giocare al mid-season. E l'ho risuperato. Arrivando tipo quindicesimo a quel mid-season. Sì, ma perché, vabbè, le Pokémon ha delle regole di cazzo. Quindi sono entrato in ritardo al mid-season, nonostante fosse permesso. Però loro da regola devono darti una penalità. Quindi è iniziato. Avevo per forza la resistenza peggiore di tutti, oltre alla Game Loss. Quindi dovevo per forza fare... X1. X... X0, in realtà. Ah, sì. No, aspetta. Sì, ecco, devo fare X0 per fare top cat. X1... No, con X1 in teoria dovevo rimanere fuori. Ho avuto culo, però quindi ho fatto top 16. Ma, vabbè, sono dettagli. E niente, poi è successa la cosa epica. Sì, poi, giustamente, io ho dovuto far sapere. Con questa. E poi, ovviamente, aggiungiamo che c'era per lo special un tedesco che, siccome ha fatto top cat, ha iniziato a urlare, a saltare. E io ho proposto ad Arash di fare la stessa cosa per la top 16 allo showdown. E vedi, Arash? Nessuno ha mai esultato tanto. Chi esultava per una top 16 e nessuno capiva. Il season showdown. Però la cosa divertente è che la gente ti veniva a abbracciare lo stesso. Sì, esatto. La gioia è collettiva. A cosa mi sono ridotto? Dopo quest'aneddoto, ragazzi, vi salutiamo. Diamo un bacione a Yuri. No. Perché, scusa? Ok. Non se lo merita. Non se lo merita. Quello voleva superarmi. Non si supera, Arash. Mi dà il dito. Dai. Ciao a tutti, ragazzi.